Maria Sabina Lembo del Foro di Potenza, fondatore e responsabile giuridico del portale www.giurissiediritto.it della piattaforma e-learning e del blog. Benvenuti al corso di diritto penale parte generale, ci ritroviamo oggi per discutere delle misure di sicurezza. Le misure di sicurezza sono degli speciali provvedimenti di carattere educativo o curativo o cautelativo che sono applicabili dall'autorità giudiziaria in sostituzione o in aggiunta alla pena nei confronti di un soggetto reo ritenuto socialmente pericoloso. Quali sono i presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza? Sono la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato o di un quasi reato, dove per quasi reato si intende il reato impossibile ex articolo 49 del codice penale e anche l'articolo 115, cioè l'istigazione a commettere un reato non accolta o accordo criminoso non eseguito. Il secondo presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza è la pericolosità criminale del reo che viene accertata eventualmente tramite una perizia. La distinzione che dovete fare rispetto alle pene riguarda la diversa funzione, i diversi destinatari e la durata. Per quanto riguarda la funzione, la pena ha una funzione retributiva, ha anche una funzione retributiva, mentre la misura di sicurezza ha esclusivamente una funzione di emenda del colpevole. Per quanto riguarda i destinatari, la pena si applica solo ai soggetti imputabili, mentre la misura di sicurezza si applica anche ai non imputabili. Per quanto riguarda la durata, la pena è fissa perché ha una durata determinata che è stabilita nella sentenza di condanna, la misura di sicurezza invece ha una durata indeterminata perché per sua natura cessa solo col venir meno della pericolosità criminale del soggetto. Quindi la durata sarà determinata solo nel minimo ma non nel massimo. Quali sono le misure di sicurezza? Le misure di sicurezza si distinguono in misure di sicurezza personali e patrimoniali. Quelle personali limitano la libertà personale del soggetto, quelle patrimoniali incidono soltanto sul patrimonio del soggetto. Quelle personali, ex articolo 215 del codice penale, a loro volta possono essere detentive e non detentive. Le misure di sicurezza detentive sono l'assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia per i condannati appena diminuita per l'infermità psichica, l'intossicazione cronica ad alcol o sostanze stupefacenti e il sordomutismo. Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per gli imputati che sono prosciolti per queste stesse cause ferma restando la facoltà del giudice di adottare in luogo di questa misura quella che terrà più idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e quindi a far fronte alla sua pericolosità sociale. E in ultimo il riformatorio giudiziario, come sapete, per i minori non imputabili o condannati appena diminuita. Quindi le misure invece di sicurezza non detentive sono la libertà vigilata, che consiste in una serie di limitazioni e di prescrizioni che sono imposte per evitare nuove occasioni di reato e per esempio l'obbligo di una stabile attività lavorativa, l'obbligo di non ritirarsi la sera dopo una certa ora, l'obbligo di non accompagnarsi a pregiudicati. Poi il divieto di soggiorno, che consiste nell'obbligo di non soggiornare in uno o più comuni, ovvero in uno o più province, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, l'espulsione o l'allontanamento dello straniero dallo Stato. Poi abbiamo le misure di sicurezza patrimoniali previste negli articoli 236 e seguenti del Codice Penale, quali sono la cauzione di buona condotta e la confisca. La cauzione di buona condotta consiste nel deposito di una somma di danaro presso la Cassa delle Ammende per una durata massima di 5 anni, una somma che varia da 103 euro a 2065 euro. Se il soggetto commette un nuovo reato punito con pena detentiva durante tale periodo, la somma viene incamerata, altrimenti decorso questo termine la somma viene restituita. La confisca invece consiste nella espropriazione a favore dello Stato di cose che servono a commettere il reato, per esempio gli arnesi da scasso, o di cose che ne sono il prodotto o il profitto, ovvero di cose la cui fabbricazione, uso o detenzione o alienazione costituisce il reato, ad esempio armi e monete false. Grazie. Grazie. Grazie.